e ciao a tutti i contadini e bentornati in questo nuovo video come avrete visto dal video di qualche giorno fa oggi anzi ieri abbiamo iniziato a mettere la rete per fare la recensione per l'orto l'altro ieri avevo fatto le punte ai pali e poi le ho piantati e adesso abbiamo già iniziato a mettere la rete metallica avevo già provato con reti di plastica o recensioni elettrificate ma poi la recensione elettrificata aveva il difetto che se una gamba d'erba toccava il filo nel giro di qualche giorno si schiaccava la batteria e con un perimetro così grande è facile non accorgersene e ce ne accorgiamo quando vediamo che la batteria è terra e quindi non fa più effetto e la recensione di plastica invece va bene per un piccolo periodo magari per sei mesi un anno però questa invece dura per diversi anni durerà certamente tanti anni e una volta fatta bene è efficace è una recensione economica si spende non molto a comprarla però è efficace perché come vediamo qui in fondo ha dei buchi abbastanza grandi però sono comunque buchi dove un tasso non passa il tasso è l'animale più piccolo che può entrare nell'orto e non passerebbe qui sotto c'è il buco che devo riempire con la terra dopo perché ci sono un po di imperfezioni nel terreno che poi con il trattore porterò qualche bena di terra e chiuderò tutti i buchi comunque non ce ne sono molti più che altro è questo poi andando giù la verso il bosco e anche nel campo ce ne sarà solo qualche buco però il più grande è questo e una volta che non passa il tasso siamo sicuri che non passerà nient'altro perché poi c'è l'istrice che può andare nell'orto e fare danni e da questi buchi certamente non passa e poi c'è capriolo e cinghiale che non entrerebbero alzandosi invece più andiamo in altezza e più vediamo che ci sono buchi grandi perché in basso è dove il tasso arriva il tasso arriva al massimo una certa altezza non riesce a saltare quindi anche se qui in alto c'è il buco grande potrebbe forse riuscire a passare forse non passerebbe però se fosse a raso terra questo buco potrebbe un po allargarlo riuscirebbe forse ma visto comunque in alto in alto serve solo da fare da barriera mentre in basso serve dei buchi piccoli per non farlo passare ho lasciato libero questo spazio altrimenti poteva andare poteva andare dritto fino all'angolo della recensione perché qui faremo un detettoio per il trattore e quindi questo spazio rimane libero poi verrà tutto tolto anche tutti quei materiali li li sposterò e poi si farà il livellamento con lo scoratore si farà una piccola tettoia come vedete già qui le imperfezioni del terreno ce ne sono poche basterà portare un po di terra e sarebbe già a posto qui in alto è lasciato un bello spazio anche qui se qui in alto non verrà coltivato perché comunque un terreno povero e l'ho lasciato così si riesce a passare meglio con il trattorino qui farò un'entrata dove passerò tutti i giorni per andare l'orto in più farò anche l'entrata per il trattorino così quando bisognerà portare un carretto di letambe o trasportare qualcosa nell'orto si entrerà facilmente senza problemi e anche lì in fondo dove metteremo le patate nel pezzo zappato sono stato così in alto che così quando raccoglieremo le patate le andrò a piantare col trattorino si potrà stare qui in cima così non andremo a piantare le patate fino accanto alla rete ma ci sarà un po di spazio in cima da poter da potersi muovere vedete sono fili duri questo qui in alto in basso sono fili molto duri mentre quelli verticali un po' meno però comunque come dicevo prima l'importante che siano piccoli i buchi a terra che dove possono arrivare gli animaletti piccoli poi in alto serve solo da barriera più che altro per il capriolo il capriolo potrebbe riuscire a passare se fosse alta magari 1,20 ma visto che 1,5 difficilmente fanno dei salti così anche perché gli animali quando in quando in sopassano la barriera entrano oltre una barriera sanno che se fanno fatica a entrare potrebbero dopo rimanere intrappolati dentro quindi ci pensano comunque due volte e tra i peggiori animali che potrebbero fare danni all'orto il primo è il cinghiale perché il cinghiale è molto grande quindi a parte che rovina molto il terreno e soprattutto se sono in branco ogni cinghiale mangia tanto ci sono anche in 5 o 6 in una notte possono rovinare facilmente anche centinaia di piante di patate poi c'è il tasso ilistrice che anche loro sono animali di 10 12 kg non sono molto grandi però anche loro se iniziano a entrare nell'orto non trovano barriera nel tempo che noi in qualche giorno costruiamo una barriera loro nel giro di qualche notte fanno comunque saltare un bel po di piante e poi c'è il capriolo che lui è quello meno dannoso mangia solo insalate e qualche verdura a foglia ma non molto invece altri animali come cinghiale o tasso istrice loro sono animali onnivori e mangiano tante verdure infatti l'ho fatta adesso fatto subito perché visto che ho comunque molti cavoli molte insalate molti finocchi devo fare una barriera altrimenti se entrassero farebbero tanti danni quindi devo mettere una rete prima possibile e poi una rete che rimarrà per tanto tempo qui devo ancora finire di recintare ho tagliato qui perché se facessi fino in fondo servirebbe più rete e poi a parte quello fino in fondo sarebbe troppo grande perché dopo quando c'è già un pezzo così di patate è già un pezzo bello grande e qui in fondo al massimo metterò un po di frumento per le galline poi d'inverno quando non ci sarà vegetazione che ci sarà molto freddo vero qui ne taglierò magari un secchio o due e poi ogni tanto glielo porterò un po così mangiano un po di roba verde e in questo in questo recinto ci saranno quattro cancelli ci sarà quello in alto che è quello dove passerò tutti i giorni per andare nell'orto poi ci sarà uno qui in alto dove si passerà con il trattore per arare e zappare e qui in fondo per uscire da là si entrerà con l'aratro e qui si uscirà e poi l'erpicatura invece verrà fatta verso la salita così l'aratro tira verso discisa il terreno e l'erpice verso la salita altrimenti se continuiamo a tirarla giù con tutti gli attrezzi fa finire che in alto manca il terreno in fondo viene il mucchio qui comunque visto che comunque il trattore non fa fatica tirarla su viene meglio facendolo verso la salita così non si accumula troppa terra qui in fondo e l'encima rimane niente la recinzione invece quella la verticale che viene verso la discesa fino qui in fondo quella lì non verrà toccata perché lì non si passerà qui verrà lasciato stare e poi ci sarà un altro cancelletto qui in fondo per andare dalle serve per andare delle sare a piedi passerò dalla in cima invece per passare con il trattorino quando potrà magari un carretto di letame non passerò dalla in alto altrimenti scendere di lì non so dove passare ma qui farò un cancelletto che utilizzerò raramente però quando ci saranno da qualche volta con il trattorino dalle serve si passerà di qui si arriverà qui adesso un po di letà me l'ho già portato col trattore così ce n'è già un bel mucchio per quest'inverno quando avranno bisogno ne butterò un po tra le piante e gli farà bene ed ecco qui i cavoli insalate ormai sono finite queste insalate poi ci sono ancora molte altre quelle però non sono venute molto bene perché le ho messe un po troppo in profondità le zollette di terra le ho ricoprite le ho ricoperte tutte e quando le ho raccolte si erano un po riempite d'acqua e di terra le foglie e in fondo erano tutte piene di terra e in più la pianta non gli fa bene quando mettiamo sotto terra tutta la zolletta di terriccio e radici perché anche se leggiamo sulle istruzioni del trapianto sulle confezioni delle insalate c'è scritto interrare due terzi del della zolletta di terra un terzo praticamente un centimetro due deve rimanere fuori dal terreno così le radici prendono più aria e in soprattutto le foglie non vanno a contatto con la terra che poi si spocano qui ancora molti cavoli ci sono diversi tipi broccoli cavolfiori cappucci rossi cavolfiori arancioni qui ci sono quattro piante di carciofi cavoli rapa finocchi insalate altri cavolfiori bianchi e altre insalate qui dentro altre insalate e qui pomodori che ormai devo legare sono pomodori messi in serra che poi li farò crescere al coperto vediamo se durante l'inverno riuscirò a raccogliere qualche pomodoro magari non a dicembre però se tra un mesetto riuscirò a raccogliere ancora qualcuno qui l'ho zappata ieri avevo già fatto questo video ieri sera ma poi era quasi buio e con il cellulare si vedeva poco quindi ho preferito farlo stamattina così si vede molto meglio qui cavolfiori i primi che ho piantato avevano la cavolaia li aveva danneggiati molto nel giro di poco tempo però adesso sono riuscito a eliminarla e in più stanno mettendo nuove foglie interne belle queste non sono rovinate ci guardiamo al centro adesso non vado a scavare troppo però vediamo già qui in fondo che c'è la palla adesso non vado a togliere quelle foglie lì perché altrimenti si rompono se non gli fa bene la pianta però dentro quelle foglioline lì c'è già una pallina grossa come un mandarino che poi con il tempo diventerà grande diventerà un bel cavolo e spero questo video vi sia piaciuto se è così potete mettere like iscrivervi noi ci vediamo i prossimi video oggi arriva il nuovo rotolo di rete da finire tutta la recensione poi ci saranno da fare alcuni ritocchi alcune sistemazioni poi vedremo il lavoro alla fine noi ci vediamo alla prossima e ciao